Incastrati dalle immagini degli impianti di videosorveglianza, stamani gli uomini della polizia di stato hanno arrestato quattro baresi, Patrizio Ottomano, Giovanni Monno, Andrea e Vincenzo Laricchiuta, tutti 22 anni, ritenuti responsabili di rapine aggravate ed esercizi commerciali a Bari. Le indagini condotte dal personale dell'ufficio di prevenzione e coordinate dalla Procura della Repubblica di Bari hanno portato al riconoscimento degli accusati attraverso i filmati delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza. I quattro arrestati sono accusati di aver messo a segno tre rapine a mano armata nel mese di ottobre. Ad incastrarli il modus operandi utilizzato in tutte le rapine messe a segno ai danni di una cartelloria, di una tabaccheria e di un supermercato. Un rapinatore armato di pistola invitava il titolare o la cassiera a consegnare il denaro contenuto nella cassa, mentre un complice si avvicinava e prelevava con forza il denaro. Il terzo rimaneva sulla porta d'ingresso, in copertura, ed il quarto complice invece attendeva in auto, pronto ad allontanarsi a forte velocità al termine del colpo. Una tecnica che ha funzionato, ma ha lasciato delle tracce evidenti nei filmati delle videocamere di sorveglianza, grazie alle quali la polizia stamane è riuscita ad incastrare i quattro giovani baresi e ad arrestarli.